C'era scritto fallimento, a lettere maiuscole. Non cubitali, certo, ma maiuscole. L'uomo davanti a lei, avrà avuto 30, massimo 35 anni, la guardava con un'espressione che conosceva bene. Compassione o pena? Avrebbe dovuto consultare il dizionario per scoprire se erano sinonimi o, in caso contrario, quale leggera sfumatura rendesse quelle due parole differenti. O forse era in sofferenza. Chissà, continuava a chiedersi Roberta mentre si sistemava meglio sulla sedia, chissà quali studi avrà fatto, quali lauree, specializzazioni o un master avrà mai preso quest'uomo, che gli permetteranno di capire in cinque, massimo dieci minuti, come aveva tenuto a precisare all'inizio del colloquio, se sarò adatta per quel lavoro. Si era lasciata convincere a fare quel tentativo da suo padre, stanco di vederla trascinarsi in quella giungla disordinata e affannata che era diventata la sua vita. E lei, nonostante nutrisse poche speranze, ce la stava mettendo tutta, mentre con un'espressione che si illudeva essere il più convincente possibile, si accingeva a spiegare perché si trovasse lì, alla sua età, perché volesse, e disperatamente, quel lavoro, quale fosse il suo stato civile, saperlo per lui era fondamentale, e quali i suoi interessi extralavorativi, che ironia, visto che il lavoro ancora non l'aveva. Sentiva di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato, come molte donne d'altronde, troppo giovani o troppo vecchie, troppo qualificate o troppo poco qualificate, con un capo che, se è un uomo, ti ha già automaticamente relegata all'ultimo o al penultimo posto ad essere ottimiste, in quanto simbolo di una fonte inenarrabile di guai. E il matrimonio e la maternità, e i permessi perché sti figli si ammalano, mannaggia loro, per non parlare dell'ostinazione con cui pretenderebbero le donne di partecipare, per esempio, alle recite natalizie dei figli, alle loro partite di pallone o al saggio di danza, e della testardaggine che dimostrano nell'accudire, quando ancora ci sono, che disdetta, gli anziani genitori. Ma se il capo è donna, rifletteva, stai serena, perché si è già dimenticata di quando era al tuo posto. Inadeguate, sempre. O amareggiate, come lei. Si ricordò di sorridere mentre rispondeva al fuoco di fila di domande dell'esaminatore, che dopo aver dato una scorsa veloce all'orologio, si rese conto evidentemente che era tardi e doveva concludere. Ora la stava congedando, grazie tante, abbiamo i suoi recapiti, a presto e ciao. Cioè, non disse proprio ciao, disse buonasera. Probabilmente perché era sera. O pomeriggio in oltrato. Insomma, erano le sei e dieci. Bene, pensò Roberta, mentre gli stringeva la mano. Ho ancora tempo di andare a fare la spesa. In quel momento sentì la vibrazione del cellulare. Michela. Allora, hai finito? Disse senza neanche salutarla. Ciao Michela, sì, ho finito proprio adesso. E com'è andata? Insistette curiosa. Boh, non so. Comunque, scusa, adesso sono un po' di corsa. Passo un salto al supermercato e appena arrivo a casa ti chiamo, così ti racconto, ok? Va bene, a dopo, mi raccomando, chiamami e pensa a quello che ti ho detto prima. Roberta sospirò. Sapeva che con molta probabilità non l'avrebbe richiamata. Quando un'ora dopo rientrò a casa, si mise subito al lavoro. Sistemare la spesa, rifare i letti. Anche se la tentazione di lasciarli già disfatti, in fondo in fondo c'era. Incominciare a farsi venire un'idea per la cena, stendere i panni. Mentre caricava la lavatrice ripensò al colloquio e la parola fallimento, chissà perché, le si ripresentò davanti netta, nitida. Il suo contratto a termine terminava appunto tra due mesi, con scarse, per non dire nulle, possibilità di rinnovo o trasformazione. E per questo già da un po' si era messa in movimento scatenando tutti i suoi contatti, Michela e suo padre, perché le dessero una mano nella ricerca di un nuovo impiego. Ma fino ad allora assoluta e totale calma piatta, se si escludeva quel colloquio e l'assurda proposta di Michela, l'amica di sempre. Robi, le aveva detto Michela al telefono. Dai proviamoci, no? Il tuo contratto sta per scadere. Io ho trovato questo posto, piccolo ma carino, gli diamo un'imbiancata, ci mettiamo un computer e il più è fatto. Ma dai, Michela, siamo serie, ma come facciamo? Tu lo sai che non ho un soldo da parte, non uno, e poi non so neanche se ne sarei capace. E di fare che? Di imbiancare? Ma no, hai capito cosa voglio dire. Beh, te lo dico io, sì, ne saresti capace, ne saremmo capaci tutti e due, e poi qualcosa da parte ce l'ho io. Per il resto ci arrangiamo in qualche modo, e dai! concluse con entusiasmo, proprio quello che mancava a lei. Non lo so, sentici, penso. Adesso devo andare, tocca a me o al colloquio, lo sai, no? Va bene, rispose. Ma promettimi che ci pensi veramente e poi mi chiami, d'accordo? Roberta ora si trovava davanti alla pentola con l'acqua che ancora non bolliva. Aveva poi deciso di fare la pasta. Quando sono al cellulare? Era suo padre? No, ti prego papà, non adesso, pensò. E non rispose. Aspettò 30 secondi e come previsto iniziò a suonare il telefono di casa. Ancora suo padre, ma non aveva voglia di parlare. E lo lasciò suonare. Finalmente, quando smise, si avvicinò al mobiletto per rimettere a posto il telefono. Guardò fuori dalla finestra e la vide. La cupola, bella come il sole. Rimase immobile a fissarla fino a quando si ricordò improvvisamente di una foto. Trovarla adesso era diventato necessario, fondamentale. Iniziò a cercarla e ad un certo punto la vide in un vecchio album dalla copertina sbiadita, a righe bianche e blu. La foto di sua nonna Ernesta con le sue amiche, Nora e Lina. Le osservò. Si tenevano sotto braccio e guardavano dritte verso l'obiettivo. Sul retro, scritta a penna e un po' scolorita, la data. 27 maggio 1945. 70 anni erano passati, ma precisi, visto che quel giorno era proprio il 27 maggio. Accidenti che coincidenza, pensò. Quanto amava guardare quella foto quando era bambina e quanto amava ascoltare la storia che sua nonna le raccontava di quando lei e le sue amiche erano rimaste sole con i loro figli. Non avevamo niente. Ma proprio niente, sai? Le diceva la nonna, accarezzandole i capelli. Ma almeno noi eravamo ancora vive. E abbassava lo sguardo, come se si sentisse in colpa. Poi una di loro, Nora, ebbe un'idea. Aveva trovato un vecchio forno, un locale piccolo e malconcio che avrebbero potuto rimettere in sesto e insieme, loro tre e sole, avrebbero potuto fare il pane. Puro e semplice, come la loro decisione che fu presa proprio lì e in quel giorno, quando scattarono quella fotografia, sotto la cupola. Se ce l'avevano fatta loro, si disse Roberta, accarezzando piano quella foto, se erano riuscite a sfidare lo scetticismo di tutti, i giudizi e i pregiudizi. Roberta le guardò ancora, sua nonna e le sue amiche. Prova, Roby, sembravano dirle. Prova. Allora prese il cellulare chiamò Michela. Michela? Sì, le rispose. Senti, ci ho pensato e... Per me va bene. Proviamo.